Ciao a tutti! Allora, piccolo video haul, anzi try on haul di Alcott. Innanzitutto questa camicetta fatta in questo modo, molto molto carina, comoda e l'unica cosa che a me piacciono tantissimo queste fatte in questo modo con le spalle scoperte però mi dà un fastidio incredibile perché appena tiri sulle braccia ti ritrovi così, devi stare sempre lì a tirare giù. Anzi, se avete qualche trucchetto per farle stare così senza doverle tirare giù continuamente, bene, sarei molto grata. Comunque questa qui ho preso una XS e costava 15,95. Ho preso la XS perché c'era o la M o la XS, l'S non c'era e la M mi stava troppo larga, quindi ho preso la XS. E appunto costava 15,95. Queste sono cose non in saldo. Poi questi pantaloncini a vita alta, neri con questi strati. molto molto carini secondo me e questi costavano 19,95 e questi quando sono andata a provarli, stavo cercando la 40, prendo questa 40 e non mi sembra troppo grande per essere una 40. Dico mamma mia quanto è grande questa 40. E così prendo anche la 38 per sicurezza. Vado in camerino e la 40 non era una 40, avevo preso una 44 quindi ovviamente mi stava troppo grande. E non avendo il tempo per riuscire a prendere e cercare la 40 eccetera. Ho provato la 38 e alla fine mi stava bene e ho detto va bene così. Quindi ho preso la 38 ma probabilmente mettere la 40 sarebbe stata meglio. Credo. comunque questi qui. Poi questo maglioncino molto semplice, carino e comodo. di questo ho preso la S e l'ho pagato 12,95. Oddio Olaf. Poi ultima cosa che ho preso, questo giubbino tipo tipo chiodo e ovviamente finta pelle. Questo ho preso anche di questo la S e costa 29,95. di questo la S e costa 29,95. E qui ovviamente devo ancora togliere tutte le cartine. E' molto molto carino, molto morbido e comodo. E poi mi piacciono tantissimo questi fatti così. Infatti è il terzo che prendo. Allora basta. E questo è il mio preferito tra tutti. E basta tolgo perchè ora sto parlando di caldo. E ora ovviamente sta anche passando lo spazzamento. Spero che non lo sentiate. O non lo sentiate troppo. Comunque questo è tutto quello che ho preso da Alcott. E spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Vuoi fare un salutino anche tu? Vuoi fare un salutino anche tu? Vuoi fare un salutino anche tu? Ciao! Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!